Si attende da un momento all'altro la decisione sull'estradizione di Ratko Mladic, l'ex leader militare dei serbi di Bosnia e accusato di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità compiuti durante il conflitto in Bosnia fra il 92 e il 95. Ieri sera il suo avvocato Milos Salicic ha presentato ricorso contro il suo trasferimento al carcere di Sheveningen vicino a Laia dove assede il Tribunale Speciale per la ex Jugoslavia. Secondo il legale l'ex generale non sarebbe in grado di viaggiare per via delle sue preoccupanti condizioni di salute. La decisione finale spetta a tre giudici del Tribunale Speciale di Belgrado e al Ministero della Giustizia serbo. Nelle prime ore della mattinata Mladic è stato autorizzato a uscire dalla cella in cui è detenuto per visitare la tomba della figlia Ana, morta probabilmente suicida nel 94, a 23 anni. Grazie a tutti.